Viaggiava di notte su un autocarro rubato nella zona industriale di Terra Nuova nei prezzi dell'autostrada, proprio come se stesse facendo un normale trasporto. Ma l'orario anomalo durante il coprifuoco e la vicinanza a svariati cantieri edili aperti hanno fatto sospettare i carabinieri che stavano pattugliando la zona per i controlli anti-Covid che si trattasse di un traffico illecito. I militari dell'arma di San Giovanni Valdarno hanno così fatto segnale all'autocarro che trasportava macchinari da lavoro di fermarsi, ma l'autista con una brusca manovra ha provato ad allontanarsi. Il tentativo di fuga però è durato poche centinaia di metri. Il conducente, chiaramente impossibilitato a misurarsi con la gazzella in un eventuale inseguimento, ha infatti preso una strada laterale e abbandonato il mezzo, dandosi alla fuga nelle campagne circostanti. Gli accertamenti hanno poi consentito di stabilire la provenienza dell'autocarro rubato circa una settimana fa in provincia di Lucca e dei mezzi trasportati di proprietà invece di una ditta di bucine e trafugati poche ore prima da un cantiere che si trovava nelle vicinanze di Terra Nuova. La refurtiva, per un valore complessivo di circa 150.000 euro, è stata immediatamente restituita ai proprietari mentre sono in corso le indagini per individuare gli autori del furto.